GESAC ha già annunciato che presenterà ricorso mentre il territorio è preoccupato perché si rischia di bloccare un'opera attesa da anni e che sembrava finalmente incanalata sui binari giusti. Lo stop del TAR alla valutazione di impatto ambientale dell'aeroporto di Salerno è stata una doccia fredda. Il ricorso presentato da alcuni residenti è stato accolto dai giudici ed ora si apre una fase di incertezza sulla tempistica per l'allungamento della pista e l'ampliamento del terminal. Il presidente di Confindustria Salerno Andrea Prete unico rappresentante del territorio nel CDA di GESAC ad 8 channel 696 non nasconde il proprio disappunto. Questo è un paese alla deriva un paese che non è capace di prendere decisioni importanti e abbiamo una situazione surreale, abbiamo un'infrastruttura straordinaria per lo sviluppo del nostro territorio che viene bloccata da qualcuno che alza il dito e dice no a me non piace o va contro i miei interessi. Ecco questo non è possibile perché se così è allora gli imprenditori è meglio che vadano via è meglio che qui non venga nessuno e non parliamo più di fughe di cervello all'estero, non parliamo più di disoccupazione perché sarebbe solo un ragionamento ipocrita. Cosa occorre? Occorrono leggi speciali. Quando c'è un'infrastruttura che è strategica per un territorio si deve fare. Punto. Mi auguro che i sindaci della provincia di Salerno si facciano sentire perché quella è l'unica occasione vera di sviluppo per il nostro territorio. Se qualcuno la blocca, la ritarda sappiate che fa male a tutti. Credo che ne dobbiamo essere consapevoli. La politica faccia il suo mestiere perché non ne possiamo più.